... Attimi di paura questa mattina sul viale della Libertà a Battipaglia. Alcune persone facenti parte di una stessa famiglia hanno minacciato il suicidio in seguito alla notifica di uno sfratto esecutivo ai loro danni legato all'occupazione abusiva della casa in cui risiedono da tempo. Un provvedimento non accettato dai membri della famiglia che hanno minacciato di buttarsi dal terzo piano dell'alloggio in questione sito in una palazzina che affaccia sul viale della Libertà. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della polizia municipale e degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia. La situazione è rientrata nella normalità dopo un paio d'ore quando è stata prospettata alla famiglia una soluzione abitativa alternativa. Grazie a tutti.